Tutto ricomincia! Mi sei mancata così pronto! Di nuovo insieme a vivere i nostri sogni! Mi sei mancata, seguendo il nostro cuore per fare le scelte giuste! Che devo fare per dimostrarvi che sono cambiata? Voglio che tu mi fissi un appuntamento col mio truccatore! Ma non eri cambiata! Nuovi amori faranno battere i cuori! Ma potrebbero rompere gli equilibri! E questo pagliaccio che vuole! Tutto ricomincia! Con energia, ritmo e nuova musica! Tu che ne pensi? Vai nella community di Violetta E raccontaci cosa succederà, secondo te, nella nuova stagione! Tutto ricomincia! Con la nuova stagione di Violetta A giugno, solo a Disney Channel